Aquafil ha deciso di chiudere lo stabilimento Borgolon di Novara, che si trasferirà quasi sicuramente in Slovenia. Ai 45 dipendenti della ditta novarese, dunque, è stato offerto il trasferimento nella fabbrica di Arco. I posti messi a disposizione dallo stabilimento arcense sono infatti 45 e ciò significa che se qualcuno dei dipendenti novarese rinuncesse al trasferimento, si aprirebbero nuove posizioni lavorative per i residenti dell'Alto Garda. La chiusura nel novarese non sembrerebbe dovuta a un ridimensionamento del gruppo Aquafil, quanto piuttosto ad una strategia di contenimento dei costi, in particolare quelli energetici.